Sì, questo è un messaggio. Sì, lo puoi attrezzare come l'uomo. Quindi ci chiamo noi. Allora, c'è di serie un tubo, cioè due tubi o vi piano. No, due e due e uno ripiano, cioè di serie. Uno ripiano al centro e il gruppo sotto il piano. Sento, però ci vedo la cassettiera, i risposti ripiano un po' in alto. Si vedo il ripiano che comunque di serie lo vedo.